Ambiente, sanità, cultura, insomma la Sicilia ha bisogno di rimettersi in carreggiata su tutti gli aspetti. Questi cinque anni di Crocetta cosa hanno portato e soprattutto quale contributo adesso potranno dare le prossime elezioni regionali, quelli di ottobre? È chiaro che i cinque anni quasi ormai terminati del governo Crocetta hanno lasciato lo sfacelo in tutti i campi. Perché lei ha parlato della sanità, lei ha parlato dell'ambiente, ma potrebbero parlare della formazione, potrebbero parlare dell'agricoltura. Debo dirvi che onestamente noi come regione abbiamo perso cinque anni che probabilmente non saranno solo cinque anni, perché chiaramente ciò che si è perso in cinque anni si potrà recuperare solamente in futuri anni che non sappiamo quali possono essere X. Allora è necessario che persone che conoscono bene l'ambiente dell'amministrazione, della burocrazia e quant'altro si mettono in campo per riuscire a dare quelle risposte che magari le persone aspettano. Ovviamente se non iniziamo un percorso virtuoso dobbiamo portarlo avanti. Oggi onestamente siamo fermi su tutti i campi, dalla sanità all'agricoltura alla formazione. Guardi, è il caso emblematico così per parlarne una. C'è una sospensione della democrazia avvenuta sulle province. C'è un commissariamento ormai che dura da quattro anni e mezzo, una cosa inverosimile, cosa che non esiste nel resto d'Italia. Ora veramente il governatore Crogetto è andato in televisione da Giletti, che ormai è diventato il suo palcoscenico, perché chiaramente il palcoscenico non può essere qua in Sicilia perché lo conoscono bene e gli eviterebbero di parlare, è andato là vandandosi di avere primo tra tutti abolito le province. Non è vero, ha militarizzato le province nominando propri commissari ed evitando che gli elettori potessero scegliersi i loro rappresentanti. Pensate ai lavoratori delle province che oggi non sanno esattamente quale sarà il loro destino e che non riescono a portare a frutto il proprio lavoro. Ma poi possiamo parlare della sanità che è sotto gli occhi di tutti, una rete ospedaliera che si sarebbe potuta fare nel 2012 perché nasce dal decreto Balduzzi che è dell'agosto del 2012, il governo Crogetto dell'ottobre del 2012. Da quel momento sono quasi passati cinque anni e ancora oggi parliamo di rete ospedaliere che forse sarà approvata fra una settimana, fra dieci giorni, concorsi e quant'altro. A me pare veramente che siamo arrivati sull'orlo del baratro. Dobbiamo fermarci prima che il baratro ci cadiamo e sia un fatto definitivo. Ricordiamoci che oggi con tutti i vincoli e i laccioli della finanza pubblica e dell'attenzione al bilancio e alle economie è chiaro che bisogna essere assolutamente tecnici nell'approccio ma anche dall'altro punto di vista politici per guardare all'aspetto sociale che questa è una regione che ha bisogno in maniera assoluta. Lei è un tecnico ed è un politico. Perché ha deciso di candidarsi proprio alle regionali? Beh, il ragionamento è questo. Io ho avuto la fortuna, sono giovane, ho avuto la fortuna di fare carriera giovanissimo. Sono stato anche fuori al nord a lavorare. È necessario che noi cerchiamo di vedere quello che io chiamo sogno, lo spiego agli amici che si avvicinano. È necessario fare crescere e nascere e formarsi una nuova classe dirigente nella politica in tutti i campi. Perché diversamente noi rimarremo sempre fermi al palo. Non abbiamo niente da invidiare alle altre regioni d'Italia, anche quelle del nord. Abbiamo le intelligenze in grado di fare ripartire questo territorio. Beh, perché non investire su noi stessi? Poi magari ci riusciamo o non ci riusciamo? Quello è un altro ragionamento. Ma chi non tenta ha già perso in partenza. Allora, a mio modo di vedere, è assolutamente necessario che chi ha quelle capacità maturate, che ha dimostrato nel proprio piccolo o nel proprio grande, di saper fare qualcosa, di saper motivare la gente, di raggiungere gli obiettivi e di arrivare a dei risultati, è giusto che oggi si mette in campo. Non si può più delegare a chi che sia la funzione di governare. Ricordiamoci solo che la politica in genere ha l'ultima parola su tutto. E pertanto noi dobbiamo fare in modo che l'ultima parola abbia gente competente, che sappia in effetti quelle che saranno le soluzioni da poter mettere in campo per la risoluzione dei problemi della gente, che oggi sono veramente di tutti i tipi. Il lavoro sarebbe demagogico oggi parlare di lavoro, ma alla fine qui non si può nemmeno vivere per chi il lavoro ce l'ha. Quindi, come dire, stiamo andando veramente in un sistema di assoluta difficoltà di vita. Ma pensiamo ai ragazzi che oggi crescono e nascono, quelli che si vogliono, come dire, cominciano a studiare, cercano di trovare i loro sbocchi. È chiaro che anche a questi dobbiamo offrire quel sogno e quella possibilità di poter rimanere sul nostro territorio e di poter investire, non di vedere questa nebulosa e futuristica e negativa visione della vita. Assolutamente no. Io mi rifiuto di farlo, mi rifiuto di farlo per me, mi rifiuto di farlo per i ragazzi, per i miei figli, per tutti coloro i quali. Bene, oggi è il momento di mettersi in campo e di sbracciarsi per lavorare. Se si riterrà opportuno fare un certo ragionamento in termini di cambio della guardia, a momento di vedere, forse potremo avere oggi quel risultato che magari non abbiamo avuto negli anni passati. Lei ha iniziato da Canicattì, si può dire la carriera di cui lei parlava poco fa. Canicattì, insomma, l'ospedale Bonolombardo è passato qualche anno, però ancora, insomma, quegli erano gli anni in cui l'ospedale era florido in tutti i sensi. Oggi ha perso un po' di appeal, è chiaro che lei magari è in una posizione un po' delicata, perché non può parlare, essendo un dipendente dell'ASP, però ecco, dal suo punto di vista, l'ospedale di Canicattì come può tornare ad essere quello che era un tempo? Guardi, intanto io a Canicattì ho lasciato un pezzo di cuore, non lo dico perché siamo in campagna elettorale, ho realmente iniziato la mia carriera da dirigente di struttura complessa a Canicattì, facevo il direttore amministrativo negli anni 2004-2005 e ho detto a tutti, quando ne ho parlato in maniera personale, tra amici, ho detto sempre che qui io sono stato come a casa mia, sono stato benissimo perché ho trovato della gente cordialissima, soprattutto della gente che è laboriosa, gli piace il proprio lavoro e lo fa con passione. Bene, questo è uno spreco, noi alla fine in sanità come in moltissimi altri settori, la principale risorsa che abbiamo è la risorsa umana, sono le persone, perché alla fine se non hai soldi devi, come dire, cercare di fare in modo che la gente sia motivata per arrivare a un obiettivo, in questo caso un obiettivo di salute che è fondamentale. La cosa più importante di cui noi parliamo e quando noi parliamo delle nostre cose diciamo beh, l'importante è che c'è la salute e c'è tutto. Bene, in questo si racchiude un certo tipo di concetto. Ma io non mi focalizzerei a parlare appunto dell'ospedale di Canicattì o dell'ospedale di Licato o quant'altro. Io mi focalizzerei a pensare che cosa sta succedendo in sanità oggi. In sanità oggi, dicevo poc'anzi, abbiamo parlato della rete ospedaliera che si sarebbe potuta fare nel 2012 e che ha tenuto i concorsi bloccati e tutta una serie di vicende bloccate e quindi si è dovuto fare ricorso al tempo determinato con i laccioli che ci sono, i vincoli che ci sono e le ristrettezze che ci sono, che ha creato un terrore precariato per altri 5 anni. Lei deve pensare che oggi se si fossero fatti concorsi del 2012 come si potevano fare, si sarebbe dovuto fare alla rete ospedaliera, un soggetto qualsiasi avrebbe avuto 35 anni allora. Oggi ne ha 40. È un soggetto che ne aveva 40 nel 2012. Oggi ne avrà 45, ancora è un precario e non sa che fine fa. Che tipo di mordente può mettere rispetto a un'attività così importante quando si trova un malato che può essere un nostro caro? Noi stessi, attenzione, quando parliamo di salute dobbiamo sempre pensare che possiamo essere noi i primi ad averne bisogno. Ma questo lo dobbiamo fare in genere in tutti i campi. Allora bisogna approcciarsi con un fare, come dire, umanistico anche all'aspetto sanitario. Guardiamo anche a queste cose. Cioè che prodotto può dare un soggetto che aspetta un concorso fra 6 mesi, fra 8 mesi, poi un rinnovo di 3 mesi, altri 3 mesi. È veramente una cosa, come dire, che crea quella instabilità psicologica che non ti permette nemmeno di stare sereno sul tuo posto di lavoro. Allora il ragionamento quale deve essere? Occorre dare stabilità a chi è servito e a che cosa serve questa instabilità dei lavoratori. Essere arrivati oggi alle porte delle elezioni è un punto di domanda che molti si chiedono. Non è un punto di domanda mio, ma molti si chiedono. Oppure c'è stata in effetti una incapacità? Bene, qualsiasi sia la risposta, è chiaro che, voglio dire, in entrambi i casi è una risposta che ha una sfaccettatura negativa che in tal modo deve essere presa. Allora il ragionamento quale deve essere? Bene, proviamo a dare una svolta reale alle cose. Facciamo le cose per tempo, non perdiamo 5 anni. Gli altri, dopo il decreto Balduzzi, le altre regioni d'Italia, hanno sbloccato la propria rete ospedaliera, hanno già fatto i concorsi, hanno dato stabilità e, come dire, da un punto di vista di assistenza sanitaria, hanno, come dire, limitato i danni rispetto alle ristrettezze economiche. Noi invece siamo andati al collasso giorno dopo giorno, anno dopo anno. È una cosa non giusta, diciamolo in questi termini. Allora, queste cose non possono esistere. Bisogna fare in modo che la gente, in effetti, abbia la risposta che merita, di qualsiasi tipo, e non bisogna avere i soldi per la sanità, perché chi ha i soldi fa un ragionamento di tipo privatistico e può andare. Noi dobbiamo avere le risposte qua. Io ho fatto il commissario straordinario al civico e quando mi parlavano di alcune cose dicevo, beh, dopo il civico, che è un punto di riferimento regionale della sanità, dopo il civico c'è il mare. Quando intendevo dire il mare significa che o il paziente cade a mare, come dire, va, decede sostanzialmente, oppure deve prendere un aereo per potersela andare altrove. Beh, quanta gente può andare fuori? Allora, il ragionamento è, noi abbiamo il diritto di avere risposte in questa terra. Non vorrei parlare di sanità, che è solo il mio campo, ma abbiamo il diritto di avere le risposte nell'agricoltura, che è uno dei volani obbligatori su cui dobbiamo puntare, da un punto di vista proprio strategico, economico e di lavoro, perché no? Ma dovremmo fare anche un ragionamento sul turismo, beh, con le nostre strade, con la rete ferroviaria che ci ritroviamo, con i mezzi di collegamento che ci ritroviamo, beh, come dobbiamo fare turismo? Se noi pensiamo da Canigattiti di dover andare al primo aeroporto vicino, beh, non ci viene facile arrivare né a Catania né a Palermo. Ora, viva Dio, non è il problema avere l'aeroporto sotto casa, e arrivare all'aeroporto in maniera tranquilla, in maniera collegata, perché non è che per forza dobbiamo prendere la macchina per andarci, perché la macchina ha un costo, ha un costo lasciare la macchina là in termini proprio di parcheggio, allora dobbiamo avere dei mezzi che ci consentono di fare, di raggiungere gli aeroporti, perché ci collegano all'Europa, ci collegano al mondo e collegano gli altri con noi. Questo è il tipo di ragionamento che noi dobbiamo affrontare. In realtà questa regione va rifondata a 360 gradi e questo governo, devo dire il governo Crocetta, ha fatto un danno, che probabilmente ricorderemo per moltissimi anni. Sono rimasti e rimarranno solamente nella storia i proclami e le urla scomposte in trasmissioni, voglio dire che io personalmente non vedo, me le raccontano, perché non uso guardare queste televisioni, che a me piace definire la televisione spazzatura.